Liliana Georgieva, la campionessa mondiale, ha ottenuto ieri il totale di punti 39 e 90, entra in finale al primo posto qui alla corda con punti 10 tonditotti. Quindi anche la ginnasta che ha le maggiori probabilità di ottenere la medaglia d'oro. La musica da lei impiegata è La notte di Valpurga di Guno. La notte di Valpurga di Guno. Grazie.